Non c'è un favorito, ma c'è un ricordaggio. La ricordata più difficile sono del Stelvio, nel Giro Italia 2014, quando è snowing, è stato molto caldo. È molto lungo, molto pesante. La altitudine, perché possiamo arrivare a 2.700 metri o 800 metri, è davvero molto per noi. L'ultimo 4K. Non è perché della distanza della via, ma è tutto sulle altitudine. La altitudine rende tutto più difficile. Grazie. 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 Grazie.